Istria nel Tempo Il progetto di Natura Culturale ha prodotto un manuale di storia e una serie di documentari televisivi che vengono presentati e diffusi anche con questo DVD. Il progetto è stato finanziato integralmente con i mezzi destinati dallo Stato italiano a favore della Comunità Nazionale Italiana di Slovenia e Croazia. Si tratta di un'opera completa che vuole essere un contributo fondamentale della Comunità Nazionale Italiana alla storia dell'Istria. Quando una regione ha avuto i problemi, le difficoltà che la storia ha segnato in qualche modo all'Istria, una delle cose più importanti che si possono realizzare è quella di storicizzarne lo sviluppo, l'evoluzione, la storia. E questo, devo dire, è una delle cose più importanti che si sia potuta realizzare, cioè il fatto che la stessa Comunità Nazionale Italiana abbia provveduto a descrivere la storia della propria regione. La Comunità Nazionale Italiana ha in questa regione una storia antica ed è la storia un po' della stessa regione, ma è una storia molto travagliata, una storia nella quale odi ideologici, di classe, etnici, si sono confrontati con esiti spesso drammatici. Che la Comunità Nazionale Italiana dell'Istria abbia voluto prendere questa iniziativa realizzando un'opera sia scientificamente molto corretta, sia dal punto di vista didattico e dell'impatto nei confronti del grande pubblico, questo credo sia un segno importante, non soltanto che denota la vivacità di questa componente, ma credo che sia un passo importante verso una visione della storia dell'Istria meno ideologica, più serena, sicuramente un apporto importante alla pace, alla pacificazione di questa terra in un'ottica più generalmente europea. La realizzazione di questo progetto culturale Istria nel tempo, sia nella sua dimensione di DVD che in quella di un volume a larga diffusione, rappresenta un fatto estremamente importante, la conoscenza della regione Istria, della sue origini antiche, del suo divenire nel tempo, degli svolgimenti più recenti, dei fatti che l'hanno interessata, è talmente importante per l'incidenza che essa ha avuto nella storia d'Europa che non può essere dimenticata. Noi sappiamo che l'Istria infatti è stato punto di incontro, di confronto e perché no purtroppo anche di scontro tra popoli diversi, ed è stato un crogiolo nel quale sono venute a fondersi esperienze vissute da diverse nazioni. La produzione dei sei documentari è frutto di 170 giornate di ripresa, diversi mesi di post-produzione, senza contare il lavoro alle sceneggiature e alle ricerche. Ad impreziosire l'opera, la bellezza dei reperti e dei siti archeologici, le preziose immagini d'epoca dell'Istituto Luce di Roma, del Film Archive di Vienna, dell'Archivio di Stato di Ljubljana, degli archivi di TVC per Capodistria, nonché altrettanto significativi momenti di fiction, in cui sono stati ricostruiti frammenti di vita e importanti eventi storici, affiancati anche da inserti di timbro artistico e di comunicazione visiva. Il tutto per raccontare la storia della penisola istriana non solo con le parole, ma anche attraverso le immagini, offrendo così uno o più livelli di lettura. Sono molto orgoglioso del risultato, penso che il merito vada dato soprattutto ai grandi professionisti che siamo riusciti a mettere in campo, e devo dire che da questo punto di vista TV Capodistria, nella storia di TV Capodistria, Istria nel tempo, un progetto storico rimarrà veramente nella memoria di tutti. È stata fatta una grandissima opera di documentazione, dal punto di vista del materiale visivo, devo dire che abbiamo scoperto cose dell'Istria che neanche noi istriani conoscevamo. Speriamo di portare a conoscenza di un pubblico molto più vasto, le bellezze, le ricchezze culturali, artistiche di questa nostra penisola. Sono orgoglioso soprattutto che a questo progetto abbiano lavorato colleghi, collaboratori, sia dell'Italia che della Slovenia che della Croazia. Questo vuol dire che anche questo progetto è stato fatto in uno spirito europeo, e così spero venga anche accettato dal pubblico. Si tratta del primo progetto multimediale, frutto della collaborazione tra le istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, oltre ovviamente all'Unione Italiana e la Università Popolare di Trieste, che sostengono e hanno garantito i finanziamenti del governo italiano per risorse importanti, ma ne valeva la pena. È realizzato dei programmi italiani di TV Capodista e del Centro di Cerche Storiche di Rovigno, è appunto il primo grande progetto multimediale che stiamo realizzando. Ed è la prima volta che la Comunità Nazionale Italiana parla da protagonista di se stessa, della propria storia di questo territorio, cercando di comunicare quali sono e quali sono state appunto la storia, quali possono essere e qual è stato in realtà il contributo che la presenza della lingua e della cultura italiana ha dato per lo sviluppo di questo territorio storicamente plurale. Il progetto ha portato un contributo importantissimo per la storia regionale dell'Istria e si conclude in un momento nel quale, in un Adriatico che oggi è più aperto, i progetti trasfrontalieri e euro-regionali stanno portando la possibilità di un dialogo completo tra le diverse popolazioni e quindi si è svolto un importante lavoro nel contesto della possibilità di convivenza di queste nazionalità diverse. In questo contesto il lavoro ha avuto la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, che sostiene il progetto nella sua interezza, e soprattutto l'apporto scientifico del Centro di Ricerche Storiche di Rovigna. Il progetto Istia nel Tempo in effetti costituisce una delle radici fondanti dell'attività della istituzione che rappresento. Noi realizziamo quello che era nella mente di tutti, cioè poter entrare nella nostra scuola e anche tra il pubblico colto della nostra comunità nazionale, ma non soltanto, anche tra coloro che ci seguono delle maggioranze linguistiche del territorio, con l'interpretazione della storia così come noi sentivamo essa dovesse essere. Abbiamo impegnato per questo motivo studiosi e scrittori di una vasta area geografica, dall'Italia, dalla Croazia e anche dalla Slovenia e successivamente in quanto recensori dell'opera. I sei documentari che vanno a comporre la storia dell'Istria dalle origini al XX secolo sono un'opera completa ed esauriente, sebbene sintetica, arricchita con la bellezza senza tempo dei reperti e dei siti archeologici dell'area alto-adriatica, da documenti rari e di inestimabile valore, alcuni sinora mai ripresi dalle telecamere. Splendide opere d'arte e preziose immagini impresse nella pellicola, a condurci per mano in un viaggio a ritroso nel tempo, reso coinvolgente da significativi momenti di fiction, che ricreano la vita e lo spirito delle singole epoche e che conducono lo spettatore direttamente nelle vicende occorse nei vari secoli. Grazie a tutti.